Aerotrack Simulator 2 per la serie il convoglio del venerdì continua. Hi everyone welcome to the stream today we will do our trip this is our rendezvous that every Friday we have to to do a trip today we will start our journey from Istanbul Aspettiamo un po' che arrivi qualcuno nel frattempo Allora un po' di pazienza E poi si parte Please take patience then we will Fabrizio Davuno sta ospitando la diretta zero ospiti entrati nella diretta benvenuti Grazie mille benvenuti a tutti grazie per l'hosting Please wait a few moments then we will begin our journey our trip 1RGK 539 sta ospitando la diretta zero ospiti entrati nella diretta benvenuti grazie mille benvenuti a tutti grazie per l'hosting Grazie per tutto Grazie per tutto a breve si parte Grazie per l'hosting Grazie per l'hosting Grazie per l'hosting Grazie per l'hosting Grazie a tutti Benvenuti Grazie a tutti ok perfetto 1RGK539 ha effettuato un raid 1 Raiders entrati nello stream benvenuti grazie mille per il raid benvenuti a tutti e anche questa sera siamo in ottima compagnia Fabrizio DAV2 ha effettuato un raid 1 Raiders entrati nello stream benvenuti grazie mille a tutti benvenuti ok adesso io direi di andare belli belli e questa sera mi sa che abbiamo beccato anche forse qualcuno che si diverte a tamponare non c'è non c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cercando di rilassarci. Cercando di rilassarci. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no. Grazie a tutti. , , , , , , , , We are. We are going to find a helicopter. Yes. We are going to find a helicopter. 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 Sì 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 Ragazzi ci siete? Avete comprato le scarpette? Avete comprato la tuta a baitoni tamaro? No? 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 dance io porto tre l'out io guido la pecar potrerò tra piaccia la pecar nella piaccia scelte quattro mattay ecco qua vado a riguattere 10 non ci urla soft gaming vado a logistica soft gaming vado a logistica Grazie a tutti. 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 Ok. Ok. Adesso andiamo a fare l'ispezione sulla stazione di pesa. Collaborazione. Grazie a tutti. 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 Do you love music? I love it so, 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 so much. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.